Il numero 6 è il corretto numero di Avogadro ed è il numero dei 6 versi dello spazio. Avogadro ottenne il suo famoso numero 6,022045, dividendo la massa unitaria di 100 kg alla dimensione 10 alla meno 28, per la massa unitaria dell'atomo che a quella stessa dimensione era stimata impropriamente 16,6056 e forse 538. Infatti, a quella dimensione, dividendo 100 per 16,6056 538, ossia la massa atomica unitaria come era risaputa, determina il numero di Avogadro. Ma laddove, come io sostengo, è 16 il giusto valore da dare all'unità della massa atomica, 100 diviso 16 determina 6 e 25, ossia 6 più un quarto, il che dà i 6 versi dello spazio sommato all'unità del tempo un quarto, che è quello della presenza di T, il tempo, sui quattro parametri x, y, z, t dello spazio-tempo. Se sottraiamo l'unità del tempo, i quattro quarti, facciamo 100-4 uguale 96, dividendo 96 per 16, giusto valore di un'unità di massa atomica, otteniamo esattamente i 6 versi. Se si pensa che il valore di ogni molecola è dato dal numero di Avogadro, moltiplicato per 10 alla 23, non si capisce in alcun modo il senso di questo numero, che invece ha un significato nettissimo se rappresenta esattamente i 6 versi dello spazio in cui la molecola è distribuita, sia espansa ma nello stesso tempo anche ammassata in quel valore esatto. Anche l'indice 23, della potenza 10 alla 23, che determina la grandezza della molecola, non ha senso, riferito al numero di Avogadro, nel numero 23, perché il numero 23 può essere esattamente il 24-1, ossia il 6 per 4, che moltiplica i 6 versi dello spazio per tutta la realtà 4, 3 di spazio e 1 di tempo, tanto da formare quel 24 che è tutto l'insieme delle ore di un giorno, o anche quel 24 che si ritrova nel valore di 10 di 2 elevato a 10, che è 1024. 24 rappresenta tutta la possibile rotazione, diciamo, distribuzione nello spazio, in tutti i 6 versi dello spazio, della realtà a quattro dimensioni, che essendo realtà che si ammassa poi nella molecola, si riduce a un decimo nel suo ciclo unitario, quindi 10 elevato a 24 diviso 10 diventa 10 elevato a 23. Si capisce chiaramente il significato allora di 10 alla 23, se riferito al 6, cioè ai versi dello spazio, e non al numero di Avogadro, che invece è quello che oggi condiziona una molecola in cui il numero di Avogadro è 6,022 e non ha nessun significato a livello di rappresentazione dello spazio che invece dovrebbe rappresentare, ma rappresenta con un numero certamente sbagliato perché lo spazio ha 6 versi e non 6,022. Insomma, la sua derivazione poi non dal 100, che è un valore assoluto, diviso per 16, ma dal valore reale, perché abbiamo visto che è lo spostamento della realtà in tutti e 6 versi dello spazio, quindi dobbiamo riferire il valore assoluto 100 alla realtà a quattro dimensioni, per cui 10 elevato a 100 diviso 10 elevato a 4, ossia l'unità della realtà, determina una potenza con un indice che è 96. Ecco, è 96 che deve dividersi per il valore esatto, 16, dell'unità della massa atomica nel suo valore esatto per determinare esattamente i 6 versi dello spazio. E questo 96 diventa il valore preciso della costante di Faraday, laddove anche la carica elettrica poi assume il valore preciso di 16. è il 16 che è l'esponente del quadrato della velocità della luce la cui dimensione è 10 elevato a 16 ed è un valore di carica, perché la potenza è un valore di carica posta sulla base 10. è un valore di carica, è un valore di carica,